Unleasci il vostro potenziale con la alchimia quante alchimia quante alchimia quante alchimia puoi andare dentro di te stesso, puoi andare al pentalfa come si chiamano in termini esoterici, significa che hai i quattro elementi e il cinque elementi insieme e in qualche modo in cui hai scelto le vostre possibilità. In qualche modo la alchimia quante alchimia va passare i vostri limiti e faccio la alchimia quante alchimia quando lavoro con la hipnosis non verbale nei miei video perché ho usato queste tecniche e questo concetto per aiutare i miei clienti a passare i loro barriere questa è la motivo per cui sono uno dei migliori hypnotherapisti e i miei studenti sono anche uno dei migliori hypnotherapisti perché hanno una mente che può aiutare la mente dei loro clienti. Grazie per la vostra attenzione e ci vediamo nel prossimo video